Partiti in ritardo Kelly Speed in vantaggio all'esterno l'immensità con all'interno Air Madrid quindi lungo la corda Anni Buttati che ora passa in vantaggio Anni Buttati quindi leader allo seccato tallonata dall'immensità più indietro insegue Air Madrid Bad Day e Kelly Speed che si è ricongiunta siamo a 300 dal palo con l'immensità che è passata e al suo interno si propone Kelly Speed a largo e Air Madrid con più all'esterno Bad Day nel tratto finale sta allungando con sicurezza l'immensità che prende chiaro vantaggio nei confronti di Bad Day che precede Air Madrid per il posto d'onore quarta Kelly Speed rivediamo le immagini con Carletto Fiocchi in sella la favorita all'immensità che nel tratto finale ha allungato in scioltezza per prendere agevolmente la meglio nei confronti di Bad Day all'esterno che ha mantenuto il posto d'onore nei confronti di Air Madrid quindi i numeri del probabili arrivo di questa seconda corsa di Napoli 6-4-1